Stefania Belmondo, 15 anni fa, proprio qui in Trentino, l'annuncio del ritiro della carriera agonistica dopo svariate medaglie, ma soprattutto due ori olimpici e quattro ori mondiali i quali si aggiungono due ori ai mondiali junioris. Com'è cambiata in questi 15 anni la tua vita, Steffi? Non sono più un'atleta, purtroppo cerco di fare dello sport, non tantissimo perché ho poco tempo perché nel frattempo ho due figli, Mattias e Lorenzo, che sono nell'età dell'adolescenza e necessitano di una mamma a tempo pieno. Sono carabiniere forestale e quando posso vado nelle scuole a parlare di educazione, i valori dello sport, tra i quali la fatica, il sacrificio, l'impegno, la volontà, la famiglia, il doping, tutte queste cose. Un impegno che si è tramutato in un libro e in un DVD nei quali tu parli delle tue esperienze e dai anche alcune importanti indicazioni di vita. L'autrice della mia prima biografia, Antonella Saracco, ha pensato di scrivere anche questo libricino per i ragazzi raccontandolo sotto forma di favola, legato a un DVD, un'animazione di Ugo Nespolo che dura nove minuti. Lo presento ai ragazzi dove tratto i valori dello sport che poi sono delle regole della vita di tutti i giorni. Come è cambiata la tua visione nei confronti del doping? Era un tuo pallino fisso già da atleta ed oggi com'è la visione? È sempre quella. Io sono convinta e lo ribadisco che chi viene trovato positivo e si è certi della sua positività secondo me dovrebbe essere radiato dalle gare, dall'agonismo perché comunque potrebbe essere un segnale forte per chi magari ha intenzione di barare perché comunque è un modo non lecito di fare dello sport perché poi secondo me lo sport è sinonimo di salute, di star bene, di vita migliore e se invece utilizziamo del doping non lo è più questo, quindi è sbagliatissimo. Tu sul campo hai pagato molto. La mancata lotta al doping con esperienze personali anche non proprio piacevoli. Purtroppo ho ricevuto due medaglie ma soprattutto quella mia decima medaglia olimpica l'ho ricevuta tramite un corriere due anni dopo in un sacchetto di nylon, beh non è una cosa bella per un atleta che in quel modo diventa tra i più medagliati. Purtroppo i miei figli o chi per essi non potranno mai vedere che io sono sul gradino del podio per la decima volta perché non ho delle testimonianze e non ci sono articoli di giornale. E questo è triste per me ma lo è anche per tutti quelli che hanno avuto, che sono passati di lì e non è bello. Parlando di medagli questa sera è uscita una curiosità, la tua prima medaglia diciamo impropriamente da atleta. Sì, mio padre ha sempre lavorato all'Enel e come dipendente Enel i figli potevano andare in colonia Riccione. Io sono andata per cinque anni e hanno fatto le mini olimpiadi e ho vinto la mia prima medaglia che nella corsa era di cartone giallo, una medaglia che conservo ancora in un cassetto a casa perché sono molto affezionata a quella medaglia lì. e forse, non lo so, significa qualcosa.